Quasi 90 milioni di investimenti fra intervento pubblico ed edilizia privata. Tanto pesano i piani di ricostruzione post-sisma 2009, sottoscritti questa mattina in provincia, per una buona parte cantierabili e con un finanziamento già pronto. Si tratta dei piani del comune di Castelli, del comune di Fano e della frazione di Cerqueto. Dopo la firma dell'accordo di programma fra le amministrazioni locali e la provincia, ora i piani dovranno essere esaminati ed approvati dall'ufficio speciale per la ricostruzione di Fossa. Progetti destinati a cambiare il volto di borghi storici, di nuovo pesantemente colpiti dalle recenti calamità naturali e dai terremoti che si sono susseguiti dal 24 agosto, con interventi di bioedilizia, soluzioni innovative, rivisitazione di aree di urbani, recupero di strutture di sviluppo socio-economico come scuole e musei. Dobbiamo recuperare del tempo perso, visto che il processo di ricostruzione nella provincia di Teramo registra dei ritardi. Ai sindaci ho consigliato di partire subito, cercando laddove possibile, di non avviare nuove procedure di aggravamento per i recenti sisma, rimodulando gli interventi già previsti nei piani approvati, ha affermato il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Per Castelli parliamo di 60 milioni di investimento, 35 milioni di edilizia privata, 831 mila euro per la riqualificazione del centro storico, 19 milioni per edifici e strutture di sviluppo, 3 milioni e mezzo per la messa in sicurezza del territorio, per citare le voci di spesa più significative. Coordinatore scientifico del progetto è il professor Stefano Dadino, della Facoltà di Architettura dell'Università di Pescara. Per quanto riguarda i piani di ricostruzione del comune di Fano Adriano e della frazione di Cerqueto, è previsto un investimento complessivo di 28 milioni di euro, con 18 milioni di edilizia privata e 10 milioni di spesa pubblica.